Fede ho imparato un nuovo stanto, lo vuoi vedere? Sei pronta? No Stef, è inutile per oggi, hai sbagliato video, non dobbiamo fare gli stanto oggi Ho imparato a fare uno stanto con un'auto Stef, oggi dobbiamo rispettare le regole di GTA V Guarda Fede, guardami, guardami, sto volando Fede E ragazzi, come va? Io sono Fede Niki E sono Stef, che soggi come GTA V E siamo qui con un nuovissimo episodio di GTA Quest'oggi toccherà a Stef rispettare le regole, vero Stef? Sì, ma Fede, ma io non sono una criminale come te, non ho problemi Capirai le mie sofferenze Stef, le capirai tutte oggi Guarda che hai delle sfide molto, molto, molto complicate oggi Quindi non canterei vittoria se fossi in te Non è un problema, sono un civile modello, vuoi vedere? Hai una dimostrazione Fede? Sì, sì, dai, davvela Guarda, io adesso mi vicino alle strisce Appena mi vicino diventa verde perché appunto sono... mi hai mancato No, ti volevo spingere per farti passare col rosso Guarda, guarda che bravo Adesso appunto è verde, quindi posso passare Prima sfida di oggi Aiuta un cittadino in qualche modo Ovvero devi trovare un modo, a tua scelta, di dare una mano ai civili di Los Santos Perché mi sembra giusto dare una mano nella comunità, Stef, è molto importante Ma tipo quando vedi la nonettina, allora l'aiuti a prendere la spesa C'è cosa in questo stile? Lascio la scelta a te, visto che tanto ti vanti di essere un cittadino modello Lascio la scelta a te, Stef, sorprendimi Non lo so, Fede È un problema Guarda, Fede, secondo me ho trovato Questa signorina sta chiaramente utilizzando il telefono, scrivendo dei messaggi E secondo me vorrebbe far vedere il suo outfit alla sua migliore amica Ok? No, non è vero, Stef Quindi, secondo me, io posso aiutare questa signorina facendole una bellissima fotografia Secondo me non c'entra niente questo modo di aiutare, te lo stai inventando No, 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 no Magari stava messaggiando per i fatti suoi Io sono un fotografo professionista Non lo sei, Stef Metto anche un filtro Ok Questo, sì, 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 sì Guarda Fede, dimmi che questa qui non è una foto che tutti vorrebbero Signorina, stia attenta, stia attenta C'è una persona pericolosa Le conviene andare via Salvala, Stef, salvala Le conviene andare via Non sei un cittadino modello Dovresti salvare una povera passante da un pazzo alla guida, Stef Che non sono io Non sono io Non sei tu, non sei tu, vero Un'altra persona sta scappando via, vero, non sei tu Scappo in retromarcia Ok Bene, ho trovato come aiutare i civili Sto chiamando l'ambulanza dopo che tu hai fatto un disastro Stef, non ti ci vorrei far rimanere male Ma secondo me non è più viva No, 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 si sta riposando No, sta malissimo in questo momento E tu non ci puoi più fare nulla Ha avuto uno spavento Perché ormai il danno è fatto, Stef No, 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 no Io comunque ho chiamato un'ambulanza Di sicuro darà una mano Guarda, mi sono privati 2000 dollari Per esserti comportato bene nel tempo Continua così, ti giuro Io non ci credo Che ce l'ho scritto Lo vedo, lo vedo Ma non ci credo a questa cosa Assurda Io te l'ho detto che sono un cittadino modello a differenza tua In ogni caso, l'ambulanza sta arrivando Io inizio ad andarmene Perché non vorrei che poi se la prendessero con me Perché purtroppo Ogni tanto vengo visto male per i tatuaggi che ho Le persone hanno pregiudizi Comunque, la mia buona azione l'ho fatta E quindi sono pronto alla tua prossima sfida a fare Cosa devo fare? Ok, sei pronto? Sì, dimmi Vai al cinema in taxi Ok, molto semplice E non hai soldi? No, mi hanno appena dato 2000 dollari per essermi comportato bene Non è vero Non La tua solita fortuna E non ti uccido perché lo faccio apposta a investirti La tua solita fortuna Io ho dovuto affaticare Come non so che cosa Per procurarmi dei soldi E a questi gli regalano 2000 dollari Allora, chiamiamo un taxi Fare, però hai fatto delle sfide un po' troppo semplici La smetti di picchiarmi? No, te lo meriti Ma me l'hanno messo all'altra parte della strada Per farmi sbagliare e attraversare, capito? Ma dove? Ah, sì Secondo me l'hanno fatta apposta È una sfida questa Guarda che se ne va, Steph Davvero? Te lo lasciate ad aspettare Non lo so, non ne sono sicura Eh, vabbè, io devo lo stesso rispettare tutte le regole Quindi dovevi andare alle strisce Prendere le strisce e poi andare lì Oh, se ne è andato il taxi? Eh, mi sa di sì Ma porca miseria Oh, ma salve, signor taxi Sono qui Sì, sì, mi vede? Per favore, che non posso attraversare la strada Signor taxi? Ok Ok, perfetto Allora, saliamo nel nostro bellissimo taxi Cinema Morningwood Stiamo andando a fare Te lo dico Costa 4 dollari Pochissimo Dato che ne ho 2000 Non avrò nessun tipo di problema Non so quanto ci metterà il nostro amico taxi Però godiamoci il viaggio Sì, ma abbiamo fatto 50 metri E per di più ci avrei messo di meno a farli in bici Cioè, ok? Non mi era accorta Che eravamo così vicini Ma poi perché fermo qua? Ascolta, aspetta Li metto fretta Vai, vai, vai Dritto, bravo Tanto stava facendo lui la cosa illegale Ma che sta facendo? Non l'ho fatta io In mezzo alla strada Adesso Ci molli qua E abbiamo pure scritto Ecco ti è arrivato Eh sì, questi sono i famosi parcheggi del cinema Certo, tutti parcheggiano qua Ma scusa, almeno parcheggiati davanti Steph, stai passando in mezzo alla strada Non ci sono strisce Cioè, non so cosa dirti C'erano lì giù, guarda Dove? Dove? Lì giù, a sinistra Sì, dovevo passare in tutta la parte della strada Mi avresti detto che era illegale a priori Hai fatto già una cosa illegale Non ci provare Non si attraversa se non si è nelle strisce Non ci provare Lo so che è colpa del tassista Ma tu dovevi rispettare andare nell'elettrice Come? Volavo A piedi 10am e 10pm Che ora è? Le 9.12 Siamo arrivati troppo presto Pure? Sì, ci tocca aspettare qua L'ingresso costa 20 dollari, cara Fede Quindi vado a guardarmi il film Sono entrata anch'io No, no, tu non dovevi venire Se non mi annoio ad aspettarti No, no, no Ce l'avevo soldato io come cosa da fare Quindi non ci provare Non ti unire a me Tu non c'entri nulla con questa sfida Sono già seduta di fianco a te Io non ti vedo Allora, prossima cosa che ho la lista qui Secondo me è anche la più divertente Ok Lavora come buttafuori Devo lavorare come buttafuori Sì, sì, sì Quindi tu devi andare di fronte a un locale Ok A tua scelta, vedi tu E farei il buttafuori Ovviamente ci saranno delle persone casuali Ok Che ti romperanno le scatole Tu dovrai comunque riuscire a mandarli via E tenere una certa quiete nel locale Ok E verrò pagato per questo lavoro? No, Steph, è gratis Gratis Volontariato per la città Ok Ok Vabbè, mi devo arrangiare Quindi va bene Ok, allora io voglio fare il buttafuori Di questo locale Secondo me, essendo un locale chic Anche se è giorno Ha bisogno di un buttafuori Sì, questo è un negozio Ok, ok Vero? È un negozio e non un locale Eh sì, però secondo me È il classico locale che ce l'ha Guarda, aspetta Mi sono anche posizionato nel modo giusto Adesso però cambio un timino i miei vestiti Perché non mi sembro troppo vestito da buttafuori Quindi così va bene Eh, dai Steph, fai il serio Qualcosa di elegante Ok I buttafuori Sono sempre eleganti con un bell'abito Fere, non c'ho altro Devi farli tutti Vabbè, resto vestito così Ok Allora io adesso resto qui E controllo tutto per non far entrare nessuno malintenzionato Salve Salve Fere Non sono fere Ah, no? No Ok Allora chi è lei? Un pagliaccio Un pagliaccio Pagliaccio, sì Ok E cosa vorrebbe? Spaccare il negozio Non può spaccare il negozio Allora, me la prendo Si tolga Ok Ok Lui non mi interessa perché è fuori dal negozio Sto cercando di spaccare la vetrina No, 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 no Signorina, si allontani per favore Ok Ok No Questa è un'infrazione della legge Quale legge? Le persone si allontanano Non si uccidono, Steph Non si fa, il buttafuori non uccide nessuno, scusami Ma infatti io non ti ho ucciso, io ti ho steso No, mi hai ucciso E allora perché sei lì in fondo in piedi? Perché posso rinascere Vedi, quindi non ti ho ucciso Io i superpoteri, sono un pagliaccio con i superpoteri Tu pensi di avere i superpoteri ma in realtà sguieni e basta, non muori mai E pensi però di avere dei superpoteri e di rinascere, Fere Quindi ti ho soltanto stesa No, non è vero E allontanata dopo che stavi distruggendo il locale Sto tornando a distruggerlo, eh Sono un ottimo buttafuori Cosa vuol dire che stai tornando? Allora, questa volta proviamo Allora, vediamo un pochettino Vabbè, io sono qua che faccio il mio lavoro Stai proteggere il negozio da un lanciamissili? Un lanciamissili? Sì Fere, aspetta, è arrivata anche un'ambulanza Cioè stanno provando Stai proteggere un negozio da un lanciamissili? Stai molto calma Guarda, guarda, Steph È successo Arriverà un'altra ambulanza anche per l'ambulanza Spendi il fuoco, Steph, stanno andando a fuoco al negozio Come faccio? Aspetta Non lo sai fare, sentaci sopra Sì, no, no, sì, sì, guardami, guardami Sto, lo sto spegnendo Stai anche tu, Steph Allora, sei butta fuori, pessimo Sono disposto a sacrificarmi Ok, guarda, ho riparato tutto Fere, tutto a posto qui Il vetro non è rotto Bravissimo, bravissimo Il fuoco non c'è più Quindi sto facendo un ottimo lavoro da butta fuori Adesso, Steph, devi fare un altro incarico molto importante Ok Devi salvare un povero civile di nome Ferenichi dalla polizia Perché mi stanno inseguendo Quindi devi aiutare Questa volta credo che faccio un favore alla città Ma scusa, non mi puoi lasciare Io non ho fatto nulla, capito? Non lo so, però io mi fido di più della polizia Di una che si chiama Ferenichi Sa, mi hanno detto che è una brutta persona Che è entrata in un piccoletto A nascondersi Ma la stanno inseguendo a fucile a pompa Devo dire che sta andando abbastanza bene come giornata Eh sì, sto facendo un lavorone A parte quando non hai attraversato nelle strisce Sono andato in mezzo alla strada Che era colpa del tassista Quello aveva fregato anche me nello scorso episodio Sì, ma tu perché sei un cittadino terribile? Io perché sono stato fregato dal tassista Ma non è vero Dai, non dare le colpe al tassista Comunque Ultima prova, giusto? Sì, ultima prova di oggi Allora, ottieni in qualche modo un veicolo e modificalo Più precisamente modifica il colore Dai, perché mi va così Ok, quindi devo avere un veicolo da cambiare di colore Giusto? Sì, esatto E dato che appunto tutti i veicoli che io possiedo non contano Eh beh, da me non contavano Devo in qualche modo ottenere un veicolo Esatto Ok Allora, vediamo un pochettino Non lo comprare Non posso? No, dai, facciamo qualcosa di divertente Come lo puoi ottenere senza rubarlo? Allora, teoricamente Ascolta me Vai, ti ascolto, vai È rubare un veicolo Se qualcuno sta sopra il veicolo Ok Se una persona abbandona il veicolo Quel veicolo non è più di nessuno Perché è stato abbandonato Ma intendi parcheggiato o cosa? No, intendo proprio abbandonato Quindi un veicolo lasciato per strada Ok Da qualcuno E come fai a far lasciare a qualcuno un veicolo in mezzo alla strada, Steph? È quello che sto cercando di pensare Ok, Fede Allora, avanza Cerca un veicolo abbastanza stretto E dopodiché ti dirò che cosa fare Dovrebbe funzionare, teoricamente Come può essere un veicolo abbastanza Beh, tipo questo qua che è appena superato non era male Questo parcheggio? No, questo veicolo all'altro è dietro di te Vedi dietro di te Non lo vedo Quello Quella stradina Ma non è un veicolo Eh, ma è una stradina stretta Eh, ma poi poi Allora, tampona la macchina marrone Ok Meglio Tamponare la macchina da un lato Farla arrivare al muro E dopodiché bloccarla Ok Ok Secondo me in questo modo Tale abitante Mollerà la macchina e se ne andrà Fede, non stava funzionando No, dai, ma non si spostano così tanto No, no, non funziona questa idea Allora vai nel posto dove ti ho messo il segno Ok, vado Ok Ok, vai, 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 vai Aspetta che c'è questo in mezzo Fede, aspettila Non è colpa mia, è in mezzo Lascia qua la macchina e vai dentro a comprare una cosa E cosa devo comprare? Non la posso dire, Fede Tu inizi ad entrare e cercherò di fartelo capire Ok Ok Vai, sto entrando, sono dentro, vai Fede, ho trovato un'auto che è stata abbandonata da qualcuno Aspetta, sto uscendo e che non posso correre dentro il negozio Non hai capito Vieni qua Ho capito e come, brutto idiota Quindi torna indietro che adesso ti faccio esplodere Siamo tutti felici Ok Vai a modificarla Dai che finiamo sto video che non ti sopporto più Vai Vai, corri Non ne voglio sentire più da te Oh no, Steph è stato tamponato Poverino E sta spandando tutto il tempo Cosa mai gli potrà succedere, vero? Ha tamponato anche un'altra auto Ma dimmi te Non l'ho tamponata No, no Aspetta Tipo Ah, sei stata tu Troppo brutto Guarda, intanto non è di nessuno Chi è che comprerebbe un'auto di quel colore? Nessuno Non lo so L'hanno regalata, guarda Ti piace? Bellissimo Ok, perfetto Beh ragazzi, lasciateci un like Nel prossimo tag del nostro video potete considerare Da iscrivervi per non perdervi gli altri fissioni Ciao, alla prossima Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao